Senza alcun profumo Cerchio Ifior attraverso Tullia e Jean d'Autodes Michel Ora chiederei la vostra attenzione in quanto, come avete potuto vedere, questa sera sono intervenuto senza alcun profumo e senza alcun dono. Questo ha lo scopo di risparmiare l'energia per cercare di riunirla invece in questo attimo di concentrazione che vi chiederò per cercare di fare un piccolo ponte e di inviare un pensiero positivo alla nostra carissima amica L che sta attraversando un momento veramente difficile a livello di salute. Ma più di questo impegno vorrei chiedervi qualche cosa di più specifico e questo in nome del lavoro che noi abbiamo cercato di portare avanti per tutti questi anni. Questo in nome dell'amore che abbiamo predicato per tutti questi anni e che ognuno di voi magari crede di incominciare a provare. Allora, per dimostrare che 25 anni di parole sono serviti a qualcosa vi pregheremmo uno ad uno di cercare di portare aiuto morale e sostegno agli amici MT e JP in quanto, tanto per riallacciarci un attimo all'argomento della serata, sono due figli che stanno vivendo un grandissimo momento di trepidazione e sentire magari una parola detta da chi con loro condivide un'esperienza di questo genere probabilmente sarebbe molto significativo. Naturalmente non è un obbligo e lasciamo al vostro sentire la libertà di azione. D'altra parte, non crediamo in tutti questi anni di avervi mai costretto a fare qualcosa che non sentivate di fare. Ciò non toglie che, se lo faceste, sarebbe qualcosa di positivo non soltanto per i due giovani in questione, ma soprattutto per voi. Per la stessa ragione di cui ho appena parlato, quindi, non passerò a salutare nessun altro da vicino per questa sera, ma vi invio comunque il mio affetto, la mia benedizione e che la pace, carissimi, sia con tutti voi. Grazie. 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 Grazie a tutti